carissimi amici brevissimo dialogo che nasce da una mail che ho ricevuto questa mattina vi leggo la mail venerabile maestro mi vedete siete sicuri di vedermi mi date conferma bene significa che sono vivo che non sono salito all'onore degli altari e quindi venerabile ce lo possiamo anche risparmiare lo trovo un po iettatorio onestamente conosco tanti è qua in rete anche su youtube che amano si fatti aggettivi io no quando mi scrivete filippo goti signor filippo goti qualcosa del genere va più che bene maestro non siamo a scuola non siamo a scuola non siamo all'interno di un perimetro di una collina di una loggia non mi risulta che ci sia un qualche rapporto iniziatico e quindi anche maestro io oserei consigliare di evitarlo un giorno poi si parlerà anche di tutti questi appellativi continuiamo come mai nel loghetto ecco qui sono rimasto un po perplesso perché non riuscivo a capire ben bene a che cosa si riferisse c'è il nome del demiurgo yahweh dentro la stella di david il nome scritto con le lettere ebraiche che ci ho un po pensato e a un punto mi sono detto ma bontà divina filippo dov'è un loghetto mi sono guardato attorno loghetti non ne ho allora ho pensato fondamentalmente alla alla filigrana che accompagna i nostri video e credo che si riferisse fondamentalmente a questo ora però mi permetto alcune considerazioni la prima essere sempre cauti quando non avendo i giusti e fondamentali requisiti formazione come dire anche una certa capacità di comprendere l'esatto significato delle parole bisogna sempre stare molto cauti con le formule imperative assolute categoriche non le uso io e quindi lo consiglio di usare a tutti inoltre mi permetto quando facendo finta che questo sia un loghetto in realtà è un'altra cosa un pantacolo bisogna fondamentalmente entrare all'interno di una determinata logica si inizia dall'esterno e si avanza verso l'interno e fondamentalmente si cerca di riporre quello che noi sappiamo quello che noi crediamo di sapere in questo caso molto crediamo di sapere in un angolino perché se no un eventuale nostra interpretazione sarà sicuramente lontana dalla realtà delle cose allora iniziamo dalla dalla stella di david ora la stella a sei punte qui rappresentata fondamentalmente non è un patrimonio esclusivo della dello stato ebraico o della cultura ebraica tutt'altro la ritroviamo nell'induismo dove l'esaramma è noto anche come shat kona questo simbolo è spesso associato al dio shiva e alla dea shakti e i due triangoli sovrapposti rappresentano l'unione degli opposti l'unione del maschile del femminile di ciò che è dinamico di ciò che è statico della creazione della distruzione insomma di ogni coppia di opposti che trova congiunzione componimento che trova un equilibrio sì ma dinamico altri sempre all'interno dell'induismo ci ravvedano invece una rappresentazione cosmica con i tre lati di ogni triangolo a simboleggiare gli aspetti della trimurti ovvero di brama il creatore viso il preservatore e shiva il distruttore nel buddismo perché anche presente nel buddismo l'esaramma può essere interpretato come il sì un simbolo di interconnessione tra tutti gli esseri senzienti e i triangoli sovrapposti rappresentano o rappresenterebbero anche il sentiero buddista e la connessione che c'è fra questi vari aspetti della della ricerca della dell'acquisizione della consapevolezza profonda ancora può essere raffigurante l'armonia degli opposti dove ancora sempre all'interno del buddismo rappresenterebbe l'equilibrio fra compassione e saggezza nella cultura ebraica sappiamo bene a che cosa è riferito è chiamato anche stella di david ed è spesso a associata a un concetto di protezione del popolo ebraico non che ne abbia un grandissimo bisogno di protezione oggi come oggi abbiamo poi invece sempre la stella a sepunte collocazione la troviamo collocata all'interno della tradizione sia alchemica e sia esoterica occidentale che come abbiamo già visto rappresenta l'unione degli opposti rappresenta il maschile e il femminile rappresenta il punto d'incontro katabasico e anabasico della materia e dello spirito e di tutta un'altra serie di dualismi che trovano risoluzione equilibrio e armonia quindi non fa parte della cultura ebraica o comunque non fa solamente parte della cultura ebraica ancora il nome di yahweh io però purtroppo qui ne vedo cinque non è che ne vedo quattro ne vedo cinque vedo una iod una e una shin una e e una vao e una e quindi in realtà questo non è il nome tetrariammatico è il nome pentariammatico che o meglio ancora come amo definirlo io formula pentariammatica di cui ritroviamo menzione ad esempio anche all'interno del magic di alistair crowley formula tetrariammatica e formula pentariammatica la ritroviamo all'interno di scritti della cabala cristiana con ad esempio picco della mirandola la troviamo in un sigillo di jacob bom la ritroviamo poi nei pentacoli dell'abate julio ora venendo a conclusione e poi volendo ci possiamo anche tornare che cos'è questo questo di cui io in genere non parlo è il particolare è particolare particolare non è generale è il particolare pantacolo di una struttura o della struttura dove fondamentalmente io presto servizio che cos'è un pantacolo è un pantacolo non è un pentacolo come detto anche un'altra occasione pantacolo è una rappresentazione del tutto è una figura universale che vuole raccogliere la filosofia la docetica e l'operatività di una struttura iniziatica ecco quindi in ultima analisi cauti con le definizioni quando ci approcciamo ad uno studio di un simbolo iniziare sempre dall'esterno e procedere verso l'interno e ancora chiedersi sempre ma perché pongo una domanda perché vedete amici miei se è la semplice curiosità che vi spinge all'interno di un determinato ambito cerchiamo di rivolgere questa curiosità altrove o di strutturarla anche come dire in maniera più proficua a presto ritrovarci Grazie 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 Grazie